numero 5 il baracchino cb è un prodotto di dimensioni ridotte ideale per l'utilizzo in spazi ridotti la sua potenza di trasmissione massima è di 4 watt così da soddisfare le esigenze di maggior parte dei paesi europei una caratteristica degna di nota è il doppio squelch automatico che fornisce 9 e 28 livelli di regolazione inoltre il baracchino cb è dotato anche di una connessione bluetooth a un microfono senza fili che consente di comunicare a mani libere in totale sicurezza il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione numero 4 l'albrecht a e 6.000 e 110 è una radio cb di dimensioni ridotte che la rendono molto comoda da trasportare e da posizionare in qualsiasi posto la radio è dotata di un'ottima ricezione e modulazione e risulta conforme alle normative europee si può ottenere un aumento da 4 a 8 watt di potenza ma si perderebbe l'omologazione per l'italia la radio ha un peso di 0,5 kg con dimensioni di 10 per 10 per 2,5 centimetri e offre un accesso diretto per canali 9 19 inoltre è possibile modificarla per ottenere 400 canali in 5 bande da 40 canali acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 3 il midland alan 48 plus è un dispositivo dalle dimensioni ridotte e con un design classico che offre un'ampia varietà di funzionalità il dispositivo è dotato di un apparato multistandard che permette il suo utilizzo in tutti i paesi dell'unione europea grazie al tasto pa il dispositivo può essere usato come amplificatore a bassa frequenza se utilizzato con un altoparlante supplementare la potenza varia in base al paese il midland alan 48 plus misura 18 per 15 per 5 centimetri ed è leggero con un peso di un chilogrammo dispone inoltre di quattro posizioni di memorizzazione canali puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 2 il baracchino midland è una scelta eccellente per chi vuole un'esperienza di ascolto di qualità dispone di una connessione posteriore per altoparlanti passivi che migliora notevolmente la qualità del suono inoltre è dotato di un filtro bf che esclude i toni più alti dall'ascolto e la nl nb previene i disturbi la retroilluminazione frontale wbl garantisce una visione perfetta del monitor anche di notte il microfono è di ottima fattura offrendo una trasmissione e ricezione nitida e il rapporto qualità prezzo è eccellente se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione numero 1 questo baracchino cb è un prodotto di alta qualità che offre prestazioni eccellenti in termini di ricezione e trasmissione è conforme alla normativa europea e italiana pertanto può essere utilizzato facilmente in tutta europa le dimensioni sono ragionevoli e non è necessaria alcuna lavorazione per l'installazione i comandi sono semplici da usare e il microfono assicura una trasmissione nitida il prezzo è più alto rispetto ad altre radio cb ma la qualità offerta è di gran lunga superiore supporta la banda di trasmissione am fm ssb trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video